Ragazzi siamo in montagna, tra i 1400 e i 1500 metri fa un freddo porco, siamo venuti lo stesso nonostante il vento dell'altro giorno e qui vediamo una nascita di armillaria ostoie su conifera a bete rosso e ovviamente bruciati dal vento però ve li facciamo vedere per riconoscerli ecco qua, i primi chiodini visti quest'anno, qui addirittura penso che stanotte abbia sfiorato lo zero bene, saluti ragazzi